Salsicce, pancetta, costolette... ci piace mangiarle, ma ha troppo grasso! Anche cucinando senza olio, il grasso rilasciato dal cibo rimane all'interno. Ti presentiamo Starlight No Fat Grill. No Fat Grill fa drenare il grasso degli alimenti durante la cottura. Guarda come il grasso scivola e cade all'interno del recipiente. Sono canorie e colesterolo che ti risparmierai a ogni pasto. L'angolo di inclinazione di 15 gradi fa drenare il grasso dal cibo, che viene raccolto nel serbatoio inferiore. Con No Fat Grill i tuoi piatti conserveranno tutto il sapore, ma senza l'eccesso di grasso che compromette la nostra salute. Conserva il sapore dei tuoi piatti, ma riduce le calorie e il colesterolo. Guarda com'è facile preparare dei cheeseburger in meno di 5 minuti. E guarda il grasso che il tuo corpo si risparmia in un solo pasto. Adesso calcola il grasso e il colesterolo che ti eviterai in un anno. Fino a 60 kg di grasso che risparmieremo al nostro organismo. Un alto livello di colesterolo struisce le arterie, con il rischio di provocare malattie cardiovascolari. Con No Fat Grill abbasserai il tuo colesterolo in modo naturale al 100%. Godi di un barbecue di gamberi in meno di 4 minuti. Le sardine con aglio e prezzemolo impiegheranno 3 minuti a cuocersi, mentre i medaglioni di nasello solo 4 minuti. Due hamburger completi in meno di 5 minuti. Deliziosi petti di pollo, perfettamente cotte in un attimo. E con tutto questo grasso in meno. La sua tecnologia a doppia fonte di calore, che riscalda sia la base che la parte superiore, ti offre una cottura perfetta in metà tempo. Il cibo si cuoce perfettamente, senza doverlo girare. Guarda questa carne cotta alla perfezione. Grazie al suo rivestimento antiaderente, cucinerai tutto senza fare attaccare nulla. Nemmeno il formaggio fuso di questi hamburger. Cucina con meno calorie, in metà tempo, senza che nulla si attacchi e conservando tutto il sapore dei tuoi piatti. Hai altre alternative per cucinare, ma solo Star Life No Fat Grill riduce le calorie e i grassi nei piatti, preservandone tutto il sapore. Inoltre, essendo così leggera, potrai portarlo ovunque. Il suo rivestimento in rame è ultra resistente, è facile da pulire, basta un panno umido. Il suo design compatto ti permetterà di riporlo ovunque. Potrai anche riporla sul piano di lavoro della tua cucina, per averla sempre a portata di mano. Acquista subito la tua Star Life No Fat Grill. Ma non è tutto! Approfitta di questa incredibile offerta e riceverai gratis questo ricettario. Acquista subito la tua Star Life No Fat Grill.